Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Nel video di oggi ricreeremo il make-up che ha fatto qualche giorno fa Mr. Daniel su Giulia Delellis credo che l'abbia riproposto anche in qualche sfilata della Fashion Week è un look assolutamente bellissimo, Mr. Daniel lo adoro che lui ha creato con la nuova palette di Nabla, quindi la Rig My Mind Palette io in realtà non ho acquistato questa palette, se avete seguito le storie ero un po' in dubbio infatti sono andata fino a due volte rinascente per rivederla dal vivo ma alla fine non mi ha convinto troppo lo schema colori infatti sinceramente penso che in alcune vecchie palette di Nabla ci siano dei colori un po' più carini e intriganti per cui quello che faremo oggi è ricreare questo look ma con le vecchie palette di Nabla che poi tutti si dimenticano ma che rimangono bellissime e sono lì in un angolino della Makeup Collection dimenticate, sepolte da quelle nuove per cui andremo ad usare la Secret Palette di Nabla e in caso anche la Dreamy che è tipo la prima credo ed è bellissima, io l'amo quindi siccome sono comunque delle palette super valide le utilizzeremo oggi per creare quel make-up io mi sono già portata avanti quindi ho creato la mia base con gli insoliti prodotti in modo da concentrarci direttamente sul make-up occhi io ho già applicato un po' di primer sulla palpebra praticamente si tratta di un marroncino di transizione dal sottotono freddo che secondo me è assolutamente identico a Illusion della Dreamy di Nabla dopo aver prelevato l'ombretto lo applichiamo inizialmente nella parte esterna dell'occhio e vado già un po' a dare la forma che desidero al make-up quindi vado avanti e indietro sulla piega palpebrale in modo da creare questa ombreggiatura diffusa e mi allungo leggermente verso l'esterno in questa maniera tra l'altro appunto vorrei sapere cosa ne pensate voi di questa nuova uscita di Nabla l'avete acquistata, siete passate avanti per questa volta io devo dire che a malincuore alla fine sono passata avanti perché comunque il concept lo trovo molto carino e innovativo è proprio lo schema colori che non mi andava giù perfetto, quindi dopo aver creato questa struttura successivamente Daniel prende un cupizzarro io mi arrangio con questa matita di Primark di esattamente questo colore quindi un marroncino, né troppo caldo né troppo freddo lo stratifico un po' qui all'attaccatura delle ciglia e successivamente con un pennellino creo un eyeliner sfumato per cui pennellino a penna e facciamo la stessa cosa e ripasso un po' la matita e risfumo l'eyeliner procedendo sempre verso l'esterno una volta creato qualcosa del genere Mr. Daniel applica un marrone scurissimo quasi nero direi che questo della Secret è perfetto ovvero mia colpa dopo aver prelevato il marrone scuro nella parte esterna e fa una sorta di V in questa zona così dopo aver intensificato la parte finale creando questa sorta di linea la va a resfumare tramite il colore di transizione che abbiamo utilizzato all'inizio quindi dopo aver applicato all'angolo esterno il marrone sfumato un po' con il colore iniziale questo risultato sarà praticamente la base del make up successivamente Daniel applica un celestial ovvero un colore che secondo me semiglia molto a Romeo Romeo mi sa che non è della stessa texture ma devo dire che sinceramente ci si avvicina molto a livello di colore e praticamente lo applica nella palpebra mobile lui consigliava quelle dita e noi faremo altrettanto wow quindi dopo aver applicato il nocciola su tutta la palpebra applico un colore luminoso all'angolo interno Daniel applica uno champagne con riflessi dorati questo qui della Dreamy ha riflessi dorati e rosa e lo applico un po' all'angolo interno per illuminare Daniel applica una matita nera lui il più pizzaro io questa qui di Urban Decay nella parte interna dell'occhio inferiore e soprattutto superiore perché appunto diceva che è una parte importantissima e che non va trascurata quella dell'interno superiore dopo aver applicato il nero all'interno torna con la matita marrone nella parte sottostante quindi va un po' a contornare questa parte qui che dopo chiaramente andremo a sfumare per bene lui non lo fa vedere ma direi che do obbligo a sfumare tutto ciò guardate che differenza a me piace collegare questa sfumatura della parte di sotto anche con quello che abbiamo fatto poco fa qua su in modo da uniformare un po' il tutto e stavo anche dicendo che per evitare un po' l'effetto panda e a me piace sempre andare poi con la spugnetta in modo da cancellare un po' l'eccesso di sfumatura che va troppo verso il basso sempre con l'ombretto di poco fa quindi lui riapplica il Celestial numero 10 io riapplico il Romeo della paletta di Nabla lo porta un po' anche qui in basso nella sfumatura delle matite e degli ombretti leggermente giusto per smorzare un po' i toni per finire applica il colore della palette quello lì Triochrome che fa un po' dorato, un po' rosa al centro della palpebra giusto qua vicino alle cili in modo da fare un effetto carino una volta aperto l'occhio in alternativa utilizzerò questo che è sempre un Triochrome secondo me con le stesse perle perché è un dorato rosato solo che questo ha un finish trasparente quindi è come se fosse un top coat mentre quello che applica Daniel è proprio colore pieno ma secondo me l'effetto potrebbe essere simile e lo applica solo qui al centro vicino alle ciglia beh, che dire Daniel applicato i ceffetti di ciglia finte che adoro ma la sto trovando nella mia makeup collection quindi utilizzo sempre l'oro ok, successivamente lui va col vicious mascara li utilizzo perché sto terminando questo qui di Dilichica successivamente matitina di Wicon per le labbra numero 03 la filiamo un po' quello che fa Daniel quello che fa Daniel è sbordare un po' dal bordo naturale delle labbra per cui faceva un arco di cupido un bel po' pronunciato e poi andava fino in basso a collegarsi ai angoli della bocca normalmente andava in basso facendo una linea leggermente più dritta anzi più squadrata diceva lui e infine collegava normalmente i laterali curisce un po' gli angoli della bocca quando metto la matita mentre parlo mi sento Diana nel bufalo e lol tra l'altro se non siete ancora iscritti al canale è giunto il momento di farlo è la vostra occasione praticamente lasciava un po' più vuoto il centro ma noi del last pod dei prodotti più semplici dei poveri no vabbè andiamo a tamponare una goccina di questo prodotto qui di Primark che credo sia in realtà no qua dice Cheek Tint mi ricordavo anche per le labbra ma noi mettiamo un goccino qua e facciamo come fa Daniel Luccio quindi alla fine questo è il risultato finale oddio io non ci azzecco niente con Mr. Daniel che è un makeup artist internazionale o Julia Delellis però secondo me a livello di colori non ci siamo andate tanto lontani fatemelo sapere giù nei commenti in primis se vi ha fatto piacere vedere questo video vi è piaciuta la tipologia e se anche voi la pensate come me ovvero che questa palette poteva avere dei colori un po' più ricercati essendo che già erano usciti con una palette la side by side che è completamente nude quindi non capisco un po' la scelta quindi questo è il makeup finito spero tanto che il video vi sia piaciuto io vi mando un bacione gigante noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao